Ciao ragazzi, live reaction del derby della mole, ve lo dico subito, la qualità delle live reaction farà schifo perché la intro la sto registrando col cellulare, quindi in risoluzione molto positiva la partita verrà registrata invece con la telecamera del computer, quindi risoluzione pessima però le abbiamo registrate, queste sono le live reaction, fino alla fine, forza Juventus gol, 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 sempre fede, che gol cazzarola, che gol, che gol li ha salzati tutti abbi fede, abbi fede, mamma mia che bel gol cazzarola, che bel gol, tutto da solo, tutto da solo, bravo anche Morata nella sponda, però bravo Chiesa, bravo no, Scesni, ecco gol 1 a 1 incredibile, Torino in vantaggio ragazzi, incredibile, non ho fatto neanche in tempo a far partire la registrazione nel secondo tempo pazzesco, è vergognoso ragazzi, io non so cosa dire non so cosa dire, boh, una squadra proprio senza mordente, completamente con la spina staccata e stiamo regalando il derby al Torino, cioè, sta roba è ridicola, sta roba è ridicola, perché il Torino in vent'anni ha vinto un derby nell'anno di Berlino e l'abbiamo sempre presi a sberle, sempre, sempre e domani no, 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 ma non era fuori gioco ma no è buono ragazzi è buono è buono è buono ragazzi, è buono e mamma, non lo so, è ragazzi è buonissimo, è un metro dietro tre due 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 GOOOOOOL se cazzo vai vai si era visto subito cazzo per controllare in mezzo finite due a due se non avete visto post partita per per quello che ne penso di questa partita ciao a tutti